Deve essere stato terribile morire così, dilaniata dalle palle di un elicottero, sotto lo sguardo impotente suo e dei suoi tre figli. Angela. E' vero che Alexander, il piccolo, non si è più ripreso dopo lo shock? Alex non parla più. All'asilo si isola dagli altri bambini e la notte non riesce più a dormire. Il piccolo è stato colpito in pieno viso dalla mano mozzata di sua madre, non è vero? Nella sua testa il piccolo potrebbe averla vissuto come un ultimo schiaffo da parte della madre. Una specie di punizione per essere stato cattivo. A volte rivivere il trauma subito potrebbe essere terapeutico. Ha mai pensato a prendere a svegli il suo figlio con un arto amputato? Per far capire ad Alex che sua madre non è morta per colpa sua potrebbe usare un ventilatore ed un piccolo animale domestico. Avete criceti in casa? Diavolo. Signori, quello che avete appena visto con lo spettacolo di questa sera non c'entrava un cazzo. Sigla. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 No, 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 andiamo solo a prendere un acquario, va bene? Detto tu che vende animali. Vende acquari. Vende acquari, allora, non animali. Vende acquari con dentro i pesci. I pesci non sono né vegetali né minerali. Ah, animali, acquari. Perché sarai stronzo poi, scusa? Perché anche tu, come il 99% dell'umanità, sei schiavo della fica. Cosa sono? No, aspetta un attimo. Cosa vuol dire il 99%? Che non sono tutti gli uomini, ma anche tutte le donne sono schiave della fica? Il 99% dell'umanità, l'umanità è maschile. No, a voler essere precisi, l'umanità è femminile. Si dice la umanità. La umanità, ma cosa dici? È l'apostrofo umanità, la umanità, femminile. Umanità? Uomo o maschile, altrimenti sarebbe donnità. Ma che cazzo? Comunque questo non è il punto. La verità è che ormai è stato un automa completamente andato agli ordini alla tua ragazza. Arrivi a costringere il tuo migliore amico a portarti da uno che nella vita fa un lavoro che non si può nemmeno dire con una parola sola, tipo macellaio o idraulico. Questo stronzo nella vita è uno che vende acquari. Ma cos'è questa fissa oggi? Che problema hai con gli acquari? Non ho problemi con gli acquari. Sì, tu hai un problema con gli acquari. Non è vero? Sì, no, sì, no. Mio nonno è morta affogata in un acquario. Cosa? Nella vasca del pesce rosso, mentre cercava di prenderlo per cambiare di l'acqua. Ma come ha fatto? Era una boccia di quelle piccole tonde. Sì, sì, è rimasta incastrata con la testa. Senti, mi spiace. Nulla, mica lo sapevi. E se cammessimo il programma? Che? Se questo acquari lo mandassimo al diavolo? Sul secco. Sì, sì, senti cosa facciamo? Ci andiamo a prendere un bel pappagallo di quelli che parlano e gli si insegna le bestemmie. Sei proprio uno stronzo allora. Cosa ho detto? Un pappagallo e perché non un rottweiler? Cosa c'entra un pappagallo con un rottweiler? Dopo essere morto affogato, il corpo di mia nonna furibilmente mutilato l'ha cocorrito il suo pappagallo. Se ne stava lì con la testa incastrata nella boccia di vetro e la schiava tutta ricoperta di piaghe. Quel demonio la stava facendo a pezzi. Ho portato via a cogliere destro. Un siamese? A dodici Giacomo, il suonano dei vicini, portò via anche il sinistro. Ho detto siamese, non so rialzo. Ma vai a fanculo, stronzo. No, no, Enzo, no, aspetta, no. Ecco, di quei taglioni non potevo saperlo. No, no, maledetti, no. Fato il libero arbitrio. Quale forza guida il destino dell'uomo? Pensate che questo dipenda dal caso o dalla sua volontà? Pensate che questi baffi siano finti? È una domanda sciocca? Probabilmente sì, ma è sciocco anche inserire un gatto in un frullatore per dimostrare la propria virilità. Ebbene, lasciate che vi dica una cosa. Non la pensereste così. Se aveste passato i migliori anni dalla vostra infanzia a bordo di notto volante. Dimenticati là da genitori troppo giovani e sbadati. Destinate l'assistere a testa all'ingiù al trascorrere delle stagioni con un bastoncino di zucchero filato come unico amico e confidente. Ma numerose difficili sono le prove che una persona deve affrontare. Come quella volta che mi chiesero di sottopormi a una plastica facciale per sostituire Kennedy durante una parata giù a Dallas. Come vedete il chirurgo sbagliò, dandomi la faccia di Marilyn. Ma è proprio in quei momenti che è importante non gettare la spugna perché ogni delusione, ogni avversità serve a renderci meno bambini e più uomini. Grazie. 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 Grazie.